Un messaggio di pace attraverso l'arte e la musica va in questo senso l'iniziativa curata dalla Fondazione Pescara Abruzzo e dalla Società del Teatro e della Musica che hanno annunciato che il concerto della National Chamber Ensemble Kiev inserito all'interno del programma della 55esima stagione concertistica della Società del Teatro e della Musica con il contributo della Fondazione sarà trasformato in una testimonianza corale di pace, solidarietà e vicinanza al popolo dell'Ucraina da parte delle massime autorità abruzzesi, pescaresi e della comunità di cittadini. Il concerto è previsto per venerdì 4 marzo alle 21 al Teatro Massimo di Pescara. L'ingresso per l'occasione sarà gratuito ma sarà possibile fare una donazione per chi la vorrà. I soldi raccolti verranno donati all'orchestra così come ha fatto la Fondazione Pescara Abruzzo con una ulteriore donazione. Lo so che potrebbe essere imbarazzante partire dalla grande cultura europea della Russia ma Dostoevsky affidava al principe Minsky nell'idiota la famosa frase La bellezza salverà il mondo. La musica è il linguaggio più universale e più bello a disposizione dell'umanità. Dobbiamo crederci anche se la tristezza e la violenza di quanto sta avvenendo a danno dei diritti fondamentali e più elementari del popolo ucraino potrebbero indurci alla sfiducia verso il ruolo della bellezza. In realtà non potremo mai immaginare il futuro del mondo senza il diritto di cittadinanza della bellezza. Per questo che la cultura credo possa svolgere un ruolo importantissimo come ambasciatrice di pace nel momento forse più tragico che l'Europa sta vivendo dopo la conclusione della seconda guerra mondiale. La società del teatro della musica Luigi Barbara ospiterà l'orchestra da camera di Kiev della quale fa parte anche un italiano. Si chiama Francesco di Rosa che suonerà l'Oboe. L'orchestra è partita il giorno prima dall'Ucraina, il giorno prima che è iniziata la guerra. Quindi un messaggio di vicinanza all'Ucraina e nella speranza che tutto questo prima o poi cessi.